Non sono molto per le foto oggi Dimmi Non sono per le foto oggi Non è una foto È un video pure Allora, descrivi un po' dove siamo, Chris Guarda, siamo a Ternate, siamo venuti a farci il giro del lago E sono incazzata come una bestia oggi Come mai sei incavolata? Sono arrabbiata ma... Ma dimmi un po' cosa abbiamo qua sullo sfondo Perché sono piena di dolori Tenta c'è la signora dietro che... Sì Cosa abbiamo dietro come sfondo? Guarda che bella niente È una meraviglia, è uno spettacolo questo Ma a Ternate Le fate vedere lo spicchio di Anguria? No, sto facendo vedere tutto l'angolo Guarda un po' dove siamo, guarda Riquadra qua, così sai dove siamo Senza che te lo dico io Eccolo lì Kilometro 4 Allora, qua Ternate che cosa c'è di particolare per la ricezione dei veicoli ricazionali? C'è un'area camper, ecco C'è un'area camper Dunque scarico E' tutto Dunque consigli? Sì, un calchie del posto e anche un calchie di passaggio Un posto fresco Fino a fare il tuo bel giro del lago La pista ciclabile è ben segnalata Ben curata, ben tenuta E quindi puoi venire tranquillamente a farti una bella passeggiata La sera com'è? È il posto? C'è quanto voglio di parlare, Vittorio